Ciao a tutti e bentornati sul canale Bianco Shabby. Da oggi potete trovare i nuovi colori bianco shabby già pronti all'uso. Bianco Shabby ha creato i colori che richiedete più spesso, quelli che possiamo trovare in tutte le liste di arredamento e non ricordi. Ve li presento. Il rosa antico è il colore romantico per eccellenza, è un classico ma è sempre attuale. ed è l'ideale per dare un tocco di eleganza retro agli ambienti. Il verde sabbia richiama il colore dell'erba aromatica da cui prende il nome. È un colore morbido e rilassante e per questo trova spazio in tutti gli ambienti della casa. Il beige corda è un colore neutro e versatile ed è molto facile da abbinare, ma allo stesso tempo è ricercato e raffinato. Non a caso è da sempre uno dei colori più diffusi nei nostri ambienti. Il carta da zucchero è un celeste polveroso, elegante e rilassante. È adatto a tutti gli stili ed è diffusissimo nello shabby proprio per la sua tonalità elegante e fresca. Il grigio polvere è dopo il bianco il colore che troviamo più facilmente nelle nostre case. Grazie alla sua luminosità alleggerisce molto gli ambienti e si adatta benissimo ad ogni tipo di tonalità. Il grigio tortora, raffinato e chic è anch'esso un colore molto versatile. Infatti sfogliando le riviste d'arredamento lo troviamo abbinato a tutti i tipi di tonalità. Con questi prodotti potete ricolorare quello che vorrete perché aderiscono perfettamente a tutti i tipi di superficie senza necessità di carteggiare. La vernice al gesso bianco shabby è un prodotto cremoso e denso, molto facile da stendere e che copre già dalla prima mano. Sono prodotti creati da noi, quindi 100% made in Italy. Sono ecologici perché a base d'acqua, privi di ammoniaca e di solventi e quindi potrete ricolorare i vostri mobili tranquillamente in casa. Sono bene, per oggi è tutto, ma le sorprese non finiscono qui perché sono in arrivo altri nuovissimi colori della linea bianco shabby. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale così sarete sempre aggiornati sulle ultime novità. Qui sotto troverete tutti i link utili. Ciao, al prossimo video!